Ciao a tutti amici di Sweet Omanesa, siamo a Lucignano alla villa Casa Elsa. Praticamente questa è una villa tutta da visitare. Casa Elsa è una villa del Settecento che è stata ristrutturata e rimessa a nuovo proprio qualche anno fa e dall'anno scorso lavora a pieno regime con stranieri, con gite e soprattutto con matrimoni e festa tema. È una villa molto versatile perché praticamente qui possono venire e stare a dormire, fare feste, tutto quello che uno vuole. C'è la piscina, c'è tutto, il parco anche per fare delle bellissime foto. Ora noi siamo qui perché siamo stati invitati da Adriano e praticamente vorrebbe fare una bella ripresa di tutta la villa e anche sopra con il drone perché con questa realizzeremo un piccolo spot da regalare a loro e intanto arricchire il canale Sweet Omanesa. Incominciamo! A presto! Grazie a tutti. 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 Buona giornata e se il video ti è piaciuto mettimi un like, iscriviti al canale se ancora non sei iscritto e mi raccomando azione la campanella, fai così, sweet, a mesa. Ciao da villa, ciao da villa e noi ci rilassiamo. E noi ci rilassiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.